Una grande rivoluzione! Rivolux, il punto luce di nuova generazione, è una novità assoluta che presenta AVE nel settore, AVE azienda innovativa in queste cose, precursore già dai tempi dei comandi touch e in questa serata ci proponiamo di presentare queste novità. Ci aspettavamo una certa diffidenza, ci aspettavamo più di stacco dell'elettricista che oggi è bombardato di messaggi e di prodotti. In realtà le innovazioni che portiamo con Rivobox e Rivolux sono veramente forti e quindi abbiamo trovato, e anche semplici da capire, un grosso riscontro molto molto rapido e quindi è un buon segnale direi. Ho visto delle cose interessanti per quanto riguarda la scatola da tre moduli che può diventare a quattro, quella è una cosa molto interessante secondo me. Mi piace questa forma così arrotondata, curva, è anche più bella. Io ho già la versione principale, quella a vetro che abbiamo già utilizzato, che utilizziamo tutt'ora. Questa è bella perché è una bella forma. Penso che ci sono alcune cose innovative e interessanti. Gli architetti sono più sofistici, quindi vogliono cose più sofistiche, un certo design, una certa linea, non la classica perché… Sono anni che uso il prodotto AVE, sono da 15-16 anni, quindi ho sempre usato il prodotto AVE. Di fatti è anche bella questa novità qui, già sempre col sensore, che sono stati i primi a uscire con questi interruttori con sensore a touch, che è veramente bello. Se è una rivoluzione per me vuol dire che è semplificato il collegamento, la programmazione e il cabaggio. C'è molta sorpresa, ma sarà vero, poi quando hanno le scatole in mano, quando hanno queste placche nuove, touch in mano, vedo subito una confidenza, un entusiasmo e la voglia di provarle. Sono un installatore AVE da qualche anno, presenteranno i nuovi prodotti della domotica, dei sistemi centralizzati sia dalla parte elettrica che tecnologici speciali legati all'antifurto o con i pannelli touch dove si può fare la remotizzazione degli impianti e avere la possibilità di centralizzare su un unico schermo tutto quello che è la tecnologia di casa. Avere un'unica scatola che quindi puoi predisporre con una placca e telaio a tre posti che costano meno. Se un domani hai bisogno di un frutto in più, gli metti il telaio a quattro, gli metti il coso senza dover rompere la scatola. Scatola a quattro posti, gli ammontano un telaio a tre posti e a quattro posti. Cambierà la vita per l'installatore che ammontano tutte le scatole a quattro posti e poi non ha problemi a montare la tela a quattro. Sono venuto perché mi interessa questa novità, questo arrivo lux, perché deve essere secondo me una cosa, nel civile secondo me è difficile trovare qualcosa di nuovo e chi lo trova secondo me è... Che sulla stessa scatola posso montare due supporti o tre o quattro senza nessun problema. Apprezzavo estremamente l'estetica, mi sembra molto più carino e molto più vendibile. Tre o quattro moduli e cartongesso nella stessa scatola, che è una bella rivoluzione. Bel prodotto, speriamo di venderne tanti. È davvero un successo senza precedenti e non è una frase fatta. Abbiamo avuto due volte tanto le adesioni aspettate a Brescia e anche qui a Torino, allo Juventus Stadium, abbiamo un numero di iscrizioni quasi il doppio di quelle che ci aspettavamo, quindi le prime due possiamo dire che abbiamo iniziato molto bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.